Dopo 450 anni, i toscani e i visitatori di tutto il mondo potranno tornare a vivere la grande bellezza della Rocca del Brunelleschi a Vico Pisano. Questo grazie al grande lavoro di restauro, recupero funzionale e messa in sicurezza del camminamento della Torre del Soccorso di Vico, che fanno parte del complesso monumentale della Rocca, frutto del genio di Filippo Brunelleschi. All'inaugurazione hanno partecipato il governatore Eugenio Gianni, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'assessore all'istruzione alla cultura Alessandra Nardini e il sindaco di Vico Pisano, Matteo Ferrucci. Un'altra perla che si aggiunge a ciò che, da un punto di vista del patrimonio artistico e culturale, rappresenta la Toscana. Io puoi pensare che qui dove stiamo camminando, Leonardo da Vinci concepiva come far bypassare all'acqua quello che era il corso dell'Arno, per deviarlo verso Livorno e magari assetare Pisa. Allora i conflitti erano fra le nostre città. Insomma, mi sembra di rivivere 500 anni fa lo spirito del genio dell'umanità. Quello del camminamento e della Torre del Soccorso di Vico Pisano è un progetto di restauro significativo, reso possibile grazie alla sinergia tra Comune, Ministero della Cultura e Regione, che con la legge regionale sulle città murate ha destinato 120.000 euro al recupero e alla restituzione e alla cittadinanza di questo patrimonio storico-culturale. Era il 9 di gennaio del 2016 e qui, proprio a Vico Pisano, insieme a Iuri Taglioli, insieme al vice sindaco, l'attuale sindaco Matteo Ferrucci, insieme a Eugenio Gianni, allora Presidente del Consiglio regionale, lanciammo l'idea di finanziare le città murate. La Toscana è ovunque bella, è fatta di storie, di tradizioni, del genio della nostra Toscana e dei tanti Toscani e vedere che quest'opera, un'opera avanguardista nel momento in cui fu realizzata, oggi torna a essere fruibile, fruibile per i cittadini, fruibile per i turisti, è qualcosa di stupendo. Il recupero e il restauro del borgo di Vico Pisano hanno una storia lunga circa 10 anni che guarda sempre in un'ottica di collaborazione e crescita condivisa tutti i borghi del Monte Pisano. Appuntamento al prossimo 2 ottobre per l'apertura al pubblico del camminamento della Torre del Soccorso in occasione della festa patronale. Quest'opera la volevamo fortemente, dopo più di 450 anni le persone torneranno a percorrere il soccorso, questo camminamento voluto dal genio di Filippo Brunelleschi e si spera che tante persone e sempre di più vengano a trovarci a Vico Pisano, ma anche in tutto il Monte Pisano, stiamo facendo un lavoro di sinergia con gli altri comuni, anche qui vicini, per renderla una vera destinazione turistica, per un turismo verde, lento e sostenibile.